Ciao a tutti sono Sissi, oggi parliamo dei miei must have per l'estate, tips and trick per superare l'estate. Dunque queste sono tutte cose che io mi porto addietro dall'estate scorse o sono anche nuove scoperte. Parleremo di cibo, parleremo di abbigliamento, parleremo di make up, parleremo di skin care, in quest'ordine avremo anche un taste test. E quindi iniziamo subito perché c'è tanto da dire. Se sentite dei rumori di sottofondo io abito vicino alle scuole, oggi credo che sia l'ultimo giorno di scuola, ci sono i bambini in festa, stanno facendo spettacoli, c'è musica e schiamazzi da tutto il giorno. E in più c'è anche Raul che gira per casa facendo versacci, io metto le mani avanti. Allora, iniziamo con il cibo. Dunque, avevo fatto io l'anno scorso un video tutto dedicato ai miei infusi freddi per l'estate. Vi rifaccio vedere i miei preferiti e ne abbiamo anche uno nuovo da provare insieme in questo momento. Dunque, i miei preferiti rimangono, che mi porto dall'estate scorsa, il Sir Winston Tea, tè freddo, maccia e limone. Quindi questi sono in bustina e vanno praticamente messi in acqua fredda e sono infusi freddi. Quindi, insomma, questo appunto è un tè, tè freddo, maccia e limone, quindi un tè verde. E poi ho anche un infuso preferito, che è questo di Pompadour, che si chiama Freddi Infusioni, menta, lime e menta. Ecco, ve lo faccio vedere di qua che è scritto in italiano, lime e menta. Questi sono i miei preferiti in assoluto, le mie bevande preferite in assoluto dell'estate, che mi aiutano con la calura, con l'affa dell'abrianza. Quest'anno a Conad, non il mio, ma quello un po' più grande di un paese vicino, perché nel mio Conad non c'è mai niente, ho trovato questo tè freddo iced tea limone, sempre di Sir Winston Tea. E quindi è sempre un tè, ma è proprio al gusto iced tea limone, quindi è proprio un tè freddo, ma in bustina, da fare in bustina. Quindi non dovete poi prendere le bustine, far bollire l'acqua, fare il tè, aggiungere il limone, farlo raffreddare. Qua, adesso sto facendo casino ad aprirlo. Casino! Ah, ma io faccio un casino! E niente, quindi se riesco ad aprirlo, ci sono riuscita, lo proviamo, facciamo un taste test direttamente sul momento. Io ho preparato il mio bicchiere, ho preparato la mia caraffa e vediamo se ci piace o non ci piace. Io ho la caraffa laica, la bustina si presenta in questo modo, mi sta un po' sulle balle, che siamo nel 2021 e ancora fanno le bustine con dentro l'alluminio, quindi sono riciclabili nella plastica, qui da noi, e non le fanno di carta, non riesco a capire perché, forse per preservare la fragranza. Mmm, bel profumo, non è niente di che. Vediamo. Ok, intanto, ecco qui, aspettiamo che si fa. Vedete, io ho messo nel mio bicchiere da cocktail, anzi tip, per rimanere idratati durante l'estate. Scambiate il vostro bicchiere normale con un bicchiere da cocktail. Io praticamente ci bevo tutto l'anno nel bicchiere. Questo è il mio bicchiere personale, l'avevo rubato in un bar, è un bicchiere del Bacardi, che ormai si è, qua c'era il simbolo del Bacardi, ma si è, è andato via. Però li vendono in qualsiasi negozio per la casa, di cose per la casa. Aspettiamo che il tè si fa e poi lo assaggiamo insieme e facciamo un taste test. Questi tè, questi infusi, sono senza calorie, senza zuccheri freschi e dissetanti. Quello che ci vuole per superare l'afa e la calura. Intanto che aspettiamo il tè che si fa, vi faccio vedere le altre due cose di cibo, della categoria cibo. Dunque, io non vado particolarmente matta per il salmone affumicato. Anzi, diciamo che proprio non è che mi piaccia molto il salmone affumicato. Però ne ho trovato uno che mi piace tantissimo, l'unico che mi piace. Ed è sempre di Conad, sapori e idee di Conad. E si chiama sashimi, limone e peperosa. Quindi è un salmone affumicato, però secondo me è leggermente affumicato. Oppure la marinatura con il limone e il peperosa, diciamo che abbassa un po' l'affumicatura, quel gusto di affumicato. Che se vi dà fastidio potete provare a provare questo prodotto. Se siete come me, potete provare questo prodotto. Perché veramente, se seguite una dieta, insomma, onnivora, questo vi salva la vita. Cioè, vi salva la vita nelle sere in cui non sapete che cosa fare, nei pranzi al volo. Questo salmone lo mettete, lo tagliate nell'insalata o ve lo mangiate con i crackers, ve lo mangiate con il pane. E vi salva veramente. Raul! Sentite? Vi salva veramente. E quindi, praticamente, questo prodotto viene, questo salmone, questo sashimi, viene anche, c'è anche aromatizzato a zenzero e semi di chia. Però io non l'ho provato perché non è che impazzisco per lo zenzero. Ma, nel mio Conad, questo qui, limone e peperosa, va veramente a ruba, che non sempre lo trovo. Quando lo trovo, guardo la data di scadenza, che hanno sempre scadenze abbastanza lunghe perché sono comunque sottovuoto. Quando hanno scadenza lunga, io ne prendo anche 3 o 4 e faccio stock perché veramente questo va a ruba nel mio Conad. Non so se l'avete già assaggiato, ma se lo trovate, veramente, sashimi, limone e peperosa di sapori e idee di Conad, è veramente da lecarsi baffi. E ve lo dice uno che non gli piace il salmone affumicato e non gli piace il pesce in generale. Altro salmone che trovo da Conad, se proprio non vi va l'idea del salmone affumicato, c'è questo prodotto che è di nicchia. Io non l'avevo mai visto, però esiste. Ed è sempre un salmone, sempre sottovuoto, della marca di questo marchio, Fumara, eccellenze di mare. Ed è un salmone norvegese al naturale, non è affumicato. Anche questo va sempre a ruba, lo trovate nel frigo del pesce. Anche questo, io mi faccio scorte, magari prendo 3 confezioni di questo e 2 di questo, non lo so, in base alla scadenza. E per i miei pranzi e le mie cene al volo, in cui voglio qualcosa di fresco da aggiungere all'insalata o al pane, sono sistemata veramente in 5 minuti. Anzi, in meno di 5 minuti. E niente, se io vi dico, io questo prodotto qua, questo salmone di Fumara, non sempre lo trovo al Conad, perché come dicevo prima, va a ruba. Se sapete di altri supermercati che lo rivendono, per favore, fatemelo sapere nei commenti e quando non lo trovo, cambio supermercato. Grazie. Quindi abbiamo finito con il cibo, aspettiamo ancora un attimo con il tè, però già si sta facendo, lo vedete che ha già cambiato colore. Il profumo, che buono, profuma veramente di limone, di tè al limone ed è senza zuccheri pure, cioè proprio top. Abbigliamento e andiamo velocissimi. Allora, è arrivato il caldo, non sopportiamo più il reggiseno. Allora, io per stare in casa, anche d'inverno, uso i reggiseni, quelli sportivi. Io, per esempio, oggi, che ho questa maglietta chiara, ho su questo reggiseno, che è praticamente un top sportivo. Color carne fa schifo, però non è il massimo da vedere. Però, non vi faccio neanche vedere, non voglio che, non sia mai che YouTube mi cancelli il canale, perché faccio vedere immagini inappropriate. Fatto sta che io uso questi top, magari lo riuscite a vedere dalla maglietta, questi top sportivi, senza ferretto, che comunque mi contengono un pochino. Questi sono ideali, soprattutto anche per l'inverno, diciamo così, da mettere sotto i maglioni per stare in casa, eccetera. Poi, è ovvio che se ho un evento, se esco con gli amici, se vado a cena, se vado ad un aperitivo, metto una lingerie un po' più carina. Ma, ho trovato quello che non mi piace di questi top sportivi, questi reggiseni, insomma, un po' sportivi, è che sono di questo materiale elasticizzato, che non è proprio cotone, fa sudare. Mi piace che siano senza ferretto, ma, quindi, mi sento abbastanza libera, non mi sento compressa, eccetera, ma, appunto, sono di materiale sintetico, no? Ho trovato da H&M questa coppia di reggiseni, che viene in questo color beige, quasi color carne, un po' un grigio beige. Sono reggiseni a triangolino, senza ferretto, e vengono in coppia, quindi questi due colori, beige e bianco. Sono al costo di 14,99 euro, la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, che io li ho trovati, non sono nella... Io li ho già usati, e ho già usato questo qui bianco, e non sono nella parte, però, dell'intimo da H&M, ma lo trovate nelle cose di Zara Basic. Ecco, io non so, queste ragazzine di adesso, che cosa intendano fare con questo pezzo di stoffa, se metterlo come sotto giacca o che cosa, fatto sta che non è nell'intimo, ma è in H&M Basics, dove ci sono le cose per le ragazze, diciamo così, per il target più giovane, e appunto, costano 14,99 euro il pacchettino da due, e sono appunto, questi reggiseni sono di cotone, sotto hanno la banda elasticizzata, non hanno il ferretto, non sono assolutamente imbottiti, però sono foderati, insomma, hanno la doppia foderatura, il che li rende ideali da mettere anche sotto le canottierine, perché hanno la spallina fine, e anche sotto le magliette, appunto, sottili, ideali per l'estate, perché comunque, anche con la doppia foderatura, mi nascondono un po' il capezzolino, insomma. Sono veramente molto comodi, ci sono tre misure, S, M e L, io ho preso una M, perché comunque ho una seconda barra terza, dipende, diciamo più terza che seconda, ma io vi dico che io sono già al limite, nel senso che comunque, avendo la spallina così fine, sono anche regolabili, però avendo la spallina così fine, non è che vi supportino più di tanto, quindi non avete molto supporto, quindi se avete il seno molto più grande del mio, quindi più di una terza direi, non ve lo consiglio molto, perché probabilmente queste spalline non reggono, non reggono e veramente non vi reggono niente, non hanno, non sono strutturati corposi, diciamo, mentre se avete un seno fino alla terza come il mio, li potete tranquillamente utilizzare. Ecco, mi ha reso perplessa questa cosa, che non erano nell'intimo, ma erano in H&M basic, veramente, cioè io non so cosa vogliono fare con queste cose, a me sembra un reggiseno da intimo, non tipo un sottogiacca nemmeno. Va bene, io lo uso così e mi trovo benissimo. Andiamo avanti con l'abbigliamento, pantaloni leggeri, lunghi ma leggeri, perché se non avete voglia di farvi peli, se vi sentite a disagio con le gambe scoperte, come succede, beh, questi pantaloni sono veramente estremamente low cost, io ce ne ho di tutti i tipi, li trovo al mercato, sono pantaloni di cotone con questa banda elastica, in vita, sono larghi, hanno le taschine, hanno le taschine davanti, la fine è regolare, non è né scampanata né stretta, e ci sono veramente con tutte le fantasie del mondo, e sono veramente leggeri, sono ariosi, adesso vi ho fatto vedere questa, io li trovo al mercato a 5 euro, veramente, e dall'estate scorsa, anzi, sono già un po' di estate che li uso, veramente mi svoltano, mi svoltano perché sono freschi, è vero, ho su un pantalone lungo d'estate quando fa caldo, ma sono veramente freschi, è come una seconda pelle, diciamo così, sono di cotone, quindi sono traspiranti, e vi faccio vedere un po', questi sono dell'anno scorso, li ho presi l'anno scorso con questa trama fiorita, bellissima, neri, poi sempre dell'anno scorso ho anche questi, così, fatti così, avete, hanno anche la cordicina, che è una cordicina finta davanti, nel senso che non stringe niente, sono elasticizzati, hanno le taschine, hanno questa trama a righe, per il lungo, che slungano e non slargano, e questi veramente, questi due mi piacciono moltissimo, stamattina sono andata al mercato, e ne ho comprati altre due paia, perché comunque, essendo pantaloni leggeri, essendo che li lavate ogni 3x2, è facile, essendo che costano 5 euro, è facile che facciano il buco, facciano i buchi, soprattutto in mezzo alle gambe, quindi ne ho presi altri due, questi sono nuovi nuovi, presi stamattina 5 euro, cerchiamo di non farvi vedere la taglia, perché mi vergogno, questi li ho presi appunto, sempre uguali, ma con questa fantasia, a fiorellino, fine fine, che sono come quelli che ho su, faccio vedere, ok, sono così, cioè li ho su, e sono quelli dell'anno scorso, hanno il buco, li devo buttare via, li ho trovati uguali, anche quest'anno, mi sono piaciuti, io quando trovo una roba che mi piace, prendo le cose sempre tutti uguali, e poi li ho presi anche di questa trama, che cosa c'è su qua, un po' retro, trama un po' retro, con fiori, e sì, con questi fiori, con questi garofanini, sembrano dei garofani, con questi garofanini, insomma, sono un po' dei pantaloni da mamma, ma d'altronde, io sono la mamma di Raul, di Raulino, e sono pronta per fare la minf, con questi pantaloni estivi, veramente sono, cioè, sono leggeri, sono leggerissimi, 5 euro, veramente, cioè, vi salvano, per da mettere tutti i giorni, per fare le commissioni, poi, ovviamente, se dovete uscire a fare un aperitivo, a mangiare, eccetera, non è il caso, ma da mettere tutti i giorni, sono il top, per andare al mercato, per andare a fare la spesa, per uscire col cane, per fare le commissioni, sotto il sole, cocente, dalla giornata, allora, altra tip, che mi ha salvato, mi vergogno un po', devo dire la verità, anzi, facciamo un sorso di tè, così mi prendo coraggio, che ormai si è fatto, io adesso, lo, cerco di mischiarlo, un po' così, proviamolo, il profumo, è veramente, buonissimo, cioè, profuma di limone, cioè, io adoro il limone poi, è buono, non è dolce, perché comunque non c'è zucchero, è molto delicato, è veramente molto buono, se non mi viene, la città di stomaco, lo posso mettere tranquillamente, nei miei preferiti, insieme a quell'altro, è un buon candidato, dunque, stavo dicendo, questa tip, che vi dirò adesso, mi vergogno un po', di dirvela, ma io sono una di quelle persone, che sono un sovrappeso, e, purtroppo, d'estate, con, infatti, avete visto, che metto spesso, i pantaloni lunghi, leggeri, quando metto i vestitini, mi sfregano le gambe, mi sfregano le gambe, e ho provato varie creme, ho provato il borotalco, ho provato varie cose, ma, ormai, poi, anche quando c'è in corso, l'arrossamento, è sempre veramente un dolore, un dolore, un disagio, da un po', di estati, mi porto avanti, questo trick, che sono i pantaloncini, i pantaloncini, questi sono semplicissimi, i pantaloncini, di Decathlon, questi sono, la mezza misura, quello a mezza gamba, volendo, ci sono anche quelli più corti, io uso sia quelli più corti, perché il problema, ce l'ho, più verso l'alto, ma anche questi, perché comunque, si è fatta, io come età, si è fatta una certa, e le minigonne, non le metto più, i vestitini che uso, sono sempre un po', al ginocchio, o un pochino sopra il ginocchio, quindi, riesco tranquillamente, a mettermi questi, che mi danno, una protezione più estesa, e anche quelli, anche un pochino più corti, dipende, questi sono molto belli, veramente, perché hanno anche il, hanno l'orlino, qua alla fine, e hanno questa fascia, che praticamente, io anche con il vestito, più aderente, ho fatto le prove, riesco a metterli sotto, e non si vede assolutamente nulla, certo, il vestito, non deve essere trasparente, perché se mi mettete, un vestito del genere, che si vede sotto, ovviamente, il pantaloncino, soprattutto se è nero, poi si vede subito, però ne esistono, vari tipi di pantaloncini, ci sono quelli color carne, ci sono quelli bianchi, eccetera, ma io, veramente, uso il pantaloncino, sotto i vestiti d'estate, perché, come ho detto prima, sono arrivata ad una certa, e non devo più impressionare, nessuno, preferisco stare bene io, non avere il disagio, del bruciore, di appunto, questo concatenamento di eventi, piuttosto che impressionare qualcuno, quindi, se siete come me, se avete paura, magari avete un appuntamento, o qualcosa, e vi vergognate, io vi dico, non vergognatevi, nel senso, perché comunque, se uscite con una persona, cioè, se si arriva al punto, diciamolo, se si arriva al punto, che questa cosa dei pantaloncini, deve venire fuori, potete sempre, andare, o per la strada, della comprensione, nel senso, che esponete, cioè, esponete il problema, dite io questo problema, e, se è una persona, sensibile, con il cervello, credo che non ci sia nessun problema, oppure, potete sempre dire, che avete paura, che vi si alzi il vestito, che vi si vedano le mutande, quindi mettete sotto i pantaloncini, fatto sta, che, eh, io veramente, non ho più nessuno da impressionare, non ho nessuno da impressionare, anche se sono singola, anche se, potrebbe potenzialmente, capitarmi, di uscire in appuntamento, io, non mi faccio più questo problema, anche perché, se dall'altra parte, trovo una persona, che, non capisce, eh, anzi, è l'universo, che mi sta facendo, un, un favore, cioè, dicendomi, questa persona, non fa per te, perché, se non capisce, una cosa del genere, che, ci parlate, ancora, a fare, ciao, ciaoone, andiamo velocissimo, perché qua, stiamo sforando, ultime cose, make up, e, eh, skin care, mie, miei alleati, da ormai, due o tre, estati, sono, i prodotti, all'aloe, in particolare, il mio caro, gel di aloe vera, 98% di equilibria, che io, lo uso, sulle scottature, lo uso, lo uso sempre, lo uso per sgrassare le creme, questo gel, ha veramente, un'infinità di usi, e mi trovo benissimissimo, quindi, appunto, io lo uso, lo uso anche per sgrassare le creme, solare, nel senso che, metto un po' di crema solare, metto un pochino di gel di aloe, mischio, e, rimane la crema, se avete una crema, troppo corposa, soprattutto chi come me, ha la pelle mista, la pelle oleosa, suda tanto, diventa lucido subito, eh, potete provare a, a sgrassare, traveri io, chiamo sgrassare, non so se il termine è giusto, a sgrassare le creme, con il gel di aloe vera, altro prodotto, che è veramente, è stato un, dei miei preferiti, probabilmente, dell'anno scorso, ve l'ho già fatto vedere, è questo prodotto, di bottega verde, che c'è anche, in gamma, quest'anno, sono andata a vedere, costa 6,99 euro, da bottega verde, ed è, una maschera, dopo sole, crema maschera, dopo sole, viso, cosa vuol dire, che voi, ve la mettete, e non la sciacquate, quindi la mettete, alla sera, prima di andare a letto, ha veramente una, è una texture, ricca, che però, si asciuga subito, e non vi lascia unte, io me la metto, anche quando, non prendo il sole, io mi faccio le scorte, quando inizia la bella stagione, ma, anche volendo, d'inverno, si può usare, perché è veramente una, una crema maschera, che idrata tantissimo, io mi trovo benissimo, soprattutto con la mia pelle mista, me la metto la sera, me ne metto anche tanta, qua sotto il contorno occhi, vado a letto, e il giorno, e la mattina dopo, mi sveglio, con una pelle, liscissima, idratatissima, e soprattutto, anche l'ho usata, mi è capitato di usarla, con il viso arrossato, dopo una giornata di mare, e il giorno dopo, veramente, si è vista la differenza, quindi, è un, poi il profumo, è buonissimo, è delicato, ve la faccio vedere, è così, intanto si asciuga subito, ok, quindi, è praticamente, diventa un gel, poi, diventa un gel, il profumo, è meraviglioso, e, veramente, vi idrata, che è un piacere, ultimo prodotto, di cui vi parlo, facciamo velocissimo, make up, mi salva la vita, sempre, appunto, per la questione, della mia pelle, il fondotinta, minerale, io ho questo qui, di Kiko, che è vecchissimo, però, ce n'è, che non finisce mai, volevo provare, vorrei provare, quello di Bare Minerals, ma mi trovo, benissimo, con questo, di, anche questo, di Kiko, si chiama, Soft Focus Foundation, Mineral Powder, è così, non mi piace tanto, come è fatta la, la scatoletta, perché, comunque, è così, io, questa, la spugnetta qui, non la uso mai, ma uso il pennello, ed è difficile andare, poi, devo sempre stare lì, tac, tac, a far uscire la polvere, perché col pennello, e poi, è difficile, andare a prendere il prodotto, eh, il, io uso il numero 3, ma ho anche il numero 4, certe volte uso il 3, certe volte uso il 4, certe volte li mischio, insieme, il, adesso non so, se il 3 o il 4, mi pare che il 3, abbia più un sottotono rosato, mentre il 4, abbia più un sottotono, eh, giallo, io a volte li mischio, eh, a volte uso uno, a volte uso l'altro, perché forse il 4, il 4 è anche un pochino più scuro di questo, io adesso, in questo momento, ho il 3, sto sudando, perché fa caldissimo, c'è un'afa, e veramente il make-up, eh, non uso tantissimo il make-up io d'estate, però se ho un evento particolare, se devo fare un video, se devo uscire a cena, se devo uscire ad un aperitivo, mi metto un velo di questo, e, sono sicura che, non, non torno a casa colata, insomma, niente, il mio goal sarebbe di utilizzarlo tutto l'anno, nel senso, perché comunque, vi dà una copertura, eh, bassissima, è il, questo fondotinta minerale, più, una specie di, di cipria, è una polvere, quindi, non aspettatevi la coprenza, di un fondotinta coprente, il goal, quello che mi sono, mi sono data io, all'inizio dell'anno, e anche all'inizio dell'anno scorso, è quello di curare, sempre di più la mia pelle, per avere, sempre meno imperfezioni, e, eh, abbastare un po', eh, la base, insomma, eh, fare basi più, eh, più leggere, e quindi, il mio goal, sarebbe di passare, eh, tutto l'anno, a un fondotinta minerale, per quello vorrei, cioè, se dovessi, eh, provare i bare minerals, magari, lo prenderei, con una, tonalità, per l'inverno, insomma, bene, questi sono, i miei must have, per l'estate, per sopravvivere, all'estate, e, fatemi sapere, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, di supporto, iscrivetevi al canale, io vi mando un bacione, e ci vediamo presto, con un nuovissimo video, ciao! Ciao!